Ciao da maestra Ilaria e dal mio avatar. Mi somiglia? Beh, insomma. Allora, sei ai primi passi con l'analisi logica. Non sai ancora che cos'è? Non sai ancora come si fa? Bene, allora questo video fa per te. In questa video lezione infatti vedremo in modo molto semplice come si fa l'analisi logica, come trovare soggetto e predicato, che cos'è il soggetto sottinteso e cosa sono i complementi. Ora noi conosciamo già l'analisi grammaticale dove si fa l'analisi di singole parole, ad esempio la frase una ragazza cammina andremo ad analizzare parola per parola, quindi una che è un articolo, ragazza che è un nome, cammina, verbo camminare, eccetera. Nell'analisi logica invece dobbiamo analizzare i sintagmi, cioè i pezzetti di frase, la stessa frase di prima infatti è composta da due pezzetti, una ragazza che è il soggetto e cammina che è il predicato. Ma vediamo meglio. Prima di tutto, che cosa bisogna fare? Nell'analisi logica bisogna trovare il predicato, cioè il verbo. Poi bisogna che ci chiediamo chi è che compie quell'azione espressa dal verbo, chi è che fa quella cosa che è, che ha? Questa è la seconda cosa che ci aiuta a trovare il soggetto. Ad esempio nella frase dei bambini giocano a pallone, prima cosa troviamo il verbo giocano, chi è che gioca, chi è che compie quest'azione? Dei bambini, soggetto. Seconda frase di esempio, il cane corre nel prato, chi è che corre, chi è che compie quest'azione? Il cane, quindi il cane, soggetto, corre predicato, cioè verbo. La frase minima, lo dice la parola stessa, è una frase piccolissima, più corta non si può ed è composta da soggetto più predicato. Ad esempio, dei bambini giocano, dei bambini soggetto giocano predicato, il cane corre, il cane soggetto corre predicato. Se finora ti sembra che questa video lezione sia chiara ti chiedo prima di andare avanti di mettere un like, iscriviti anche al mio canale, attiva la campanella e saprai quando pubblicherò altre video lezioni per imparare l'italiano in modo semplice come in questa, ma andiamo avanti. Che cos'è invece il soggetto sottinteso? Il soggetto è sottinteso quando non è scritto nella frase, ma noi possiamo comunque capirlo. Ad esempio, giocano nella stessa squadra, giocano il predicato, chi è che gioca, chi è che compie quell'azione? Essi, quindi essi è il soggetto sottinteso. Altra frase di esempio, studiamo sempre insieme, studiamo il predicato, chi è che compie quest'azione? Studiamo noi, quindi noi è il soggetto sottinteso. E poi ci sono i complementi, i complementi completano la frase, lo dice la parola stessa. Ad esempio, Marco gioca a pallone, iniziamo a cercare il predicato, cioè il verbo gioca. Chi è che gioca? Marco, che è il soggetto. A pallone è il complemento che in questo caso risponde alla domanda a che cosa? Come vedete ho diviso la frase in piccoli pezzettini, sintagmi, mettendo queste sbarre verticali come vi ho fatto vedere anche prima. Seconda frase di esempio, noi impariamo a scuola. Iniziamo a cercare il predicato che è impariamo, chi, noi, noi il soggetto e poi c'è a scuola che è il complemento e risponde alla domanda dove impariamo dove a scuola. In analisi logica ci sono tanti complementi e ogni complemento risponde a diverse domande. Il più semplice è il complemento oggetto perché risponde alle domande chi, che cosa, che tra l'altro se volete approfondire meglio potete trovarlo nella mia video lezione sui verbi transitivi e intransitivi che vi metto qua sotto nella descrizione del video. Vediamo comunque una frase di esempio che è Elena mangia l'anguria. Qual è il predicato? Mangia, quindi chi è che mangia? Elena che è il soggetto. Mangia che cosa? L'anguria. L'anguria è il complemento oggetto. Seconda frase di esempio, Marco saluta i suoi amici. Saluta il predicato. Chi è che saluta? Marco che è il soggetto. Saluta chi? I suoi amici. I suoi amici è il complemento oggetto. Potete esercitarvi se volete lasciandomi un commento qua sotto scrivendomi una frase minima in cui ci sia solamente un soggetto e un predicato e poi prova a scrivermi anche una frase dove ci sia anche un complemento oggetto. Bene, io vi ringrazio, mi auguro che questa video lezione sia stata chiara. Vi saluto, ci vediamo alla prossima video lezione. Grazie.